Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi cerchiamo di fare un po' il recap di mercato e quello che dovrebbe, potrebbe, si auspica e non si auspica succeda questa settimana. Prima però di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento. E' molto importante questa cosa, sapete non vi costa niente, mentre per noi, per me, per Paglia, per tutto il progetto, insomma, vuol dire molto anche perché YouTube dà estremamente peso a questi numeri, sia nel proporre poi il video a più persone, sia nel notificarvi le varie uscite dei video. Comunque, vi ricordo inoltre che in iscrizione trovate la maglietta di Dike LV, la promo per andare a Varsavia, insomma, tutta una serie di informazioni utili che potete tranquillamente andare a vedere. Arriviamo a noi, arriviamo alle cose importanti. Che cosa succederà, che cosa potrebbe succedere questa settimana? Partiamo dalla nota più dolorosa, personalmente almeno, la cessione di Gym City. Se è vero quello che dicono, se è vero le voci che mi sono arrivate e se è vero che Gym City andrebbe a prendere una cifra fuori di testa, francamente trovo molto molto difficile pensare che il giocatore possa restare a Bergamo. E' un dispiacere enorme, però è comprensibile a quel punto andarsene per prendere soldoni importanti. Non è detta l'ultima parola, l'Atalanta vuole comunque un attimino negoziare la trattativa, però l'impressione francamente è che se girano quelle cifre, a me è arrivata una cifra che non è 10 milioni a stagione, ma è qualcosa di meno. Insomma, comprendo che anche l'Atalanta non si tira indietro. L'uscita ovviamente di Gym City, nel caso, sarebbe da tamponare immediatamente. Ed è già emerso il nome con una certa forza, che è Danso del Lensa, giocatore che era già stato visionato, giocatore che in Italia era già stato accostato anni fa al Napoli. Buonissima scelta, giocatore che difensore, che per caratteristiche si sposa bene con il nostro progetto. Nulla da dire, è una chiamata assolutamente valida, assolutamente logica, che può senza ombra di dubbio sostituire Jimmy al meglio. Sono bei soldoni che vanno, però con il cambio di Gym City, bene o male, la differenza da mettere è relativamente poca. Resta a quel punto molto da capire sul secondo difensore, perché Maggi in live ce l'aveva già spoilerato, ora come ora prende quasi più senso la cosa, il sesto difensore potrebbe essere Deron. E quindi non andare ad aggiungere due difensori, ma approfittare della cessione di Gym City, non per prendere un difensore da rotazione, ma per prenderne uno forte. E a quel punto tu avresti Danso, Yen, Kolasinac, Scalvini, Toloi, Deron, insomma avresti un pacchetto difensivo che tutto sommato regge. Continuo a credere che sia un po' corto, però potrebbe essere una soluzione, quantomeno per i primi sei mesi, assolutamente applicabile. Centrocampo. Qua la situazione è che di fatto non ci siamo mossi di mezzo centimetro dall'altra volta. La Juventus sta ruotando sempre attorno alla stessa trattativa, che una volta sono 45, una volta sono 48, ma è ben lontana dai 60. Io come ho sempre detto credo che a 52-55 l'Atalanta potrebbe, a quel punto più bonus, potrebbe accettare di venire incontro alla Juventus, bisogna capire se la Juventus riesce a fare questo sforzo. Perché diventa anche un po' una questione di principio, diventa anche una questione di business, di mostrare gli attributi, di saper tenere la barra dritta. Luca Percassi si è speso molto in queste settimane con dichiarazioni che, francamente, sono pesanti. L'ha detto più di una volta, la cessione di Cup al momento non è nei piani, non vogliono cederlo. Possono anche essere delle prese di posizione così per temporeggiare o per lanciare segnali o possono essere delle cose veritiere. È difficile, ora come ora, comprendere. Certo è che se arrivasse un'offerta molto, molto vicina a quello che l'Atalanta chiedeva, diventa complicato negare la cessione. Vediamo che cosa succede. Io continuo a pensare che se la Juventus non ci è arrivata nelle scorse settimane, trovo difficile ci arrivi adesso. Però non si sa mai. Per quanto riguarda il mercato in entrata a centrocampo, sempre viva la pista Orilli. L'Atalanta lì la sta prendendo alla lunga perché ha l'accordo con il giocatore, l'abbiamo già detto, quindi fa dei piccolissimi rialzi. Anche perché fin quando non si sblocca la situazione, Kumeners secondo me non ha neanche questa fretta di andarla a chiudere. Il Celtic chiede una cifra che non è razionale, chiede più di 30 milioni. Certo è che se continua a fare un precampionato come quello che sta facendo, diventa difficile anche abbassare la cifra. nelle ultime quattro partite ha praticamente o assegnato o fatto assist. Capite anche voi che non diventa facile negoziare il prezzo davanti a uno che fa un precampionato del genere. Comunque l'Atalanta i soldi per metterli ce li ha. Quindi nel caso non si arrivasse a un dunque potrebbe anche l'Atalanta decidere nell'esigenza di fare il salto e mettere cash quello che occorre. Io ripeto, dal momento in cui tu hai l'accordo col giocatore, con la gente, ho molta difficoltà a pensare che la trattativa non possa andare in porto. Resta il tema terzino destro. Lì ragazzi non arrivano notizie. O meglio, sono arrivate nelle scorse settimane delle voci molto, molto, molto pilotate, a mio avviso, di operazioni imminenti che infatti poi non ci sono state. Quello che sembra chiaro è che palestra lo mandano in B. Quindi serve prendere qualcuno. Io francamente non so chi possono andare a prendere. Nomi non ne vengono fuori. A volte ci sono anche dei misunderstanding abbastanza importanti tipo Gertuida che viene considerato un terzino non è assolutamente un terzino è un difensore centrale. Sono anni che non fa il terzino quindi non vedo il motivo di accostarlo su quel ruolo. Non lo so cosa potrebbe andare a fare l'Atalanta. Certamente un ruolo così importante per il gioco di Gasperini arrivare lunghi per l'ennesima volta fa specie. Però vi invito anche se avete tempo a buttare via di fare una ricerca filtrata su TransferMarket noterete da voi che c'è questa grande presenza di uomini da poter comprare nello specifico reparto. È un po' quello da capire e da vedere. Per il resto l'ultima news l'ultima situazione da sbrigliare in attacco con il Bilal Touré che è stato avvicinato dallo Stoccard all'Atalanta non è così intenzionata a privarsene. Vero è che davanti a un'offerta che va quasi totalmente al netto del costo ammortizzato nell'anno a pagare al giocatore l'Atalanta potrebbe fare la valutazione ma non per bocciarlo ma perché a quel punto liberi lo slot per un giocatore di qualità superiore. è sempre un po' quella la storia però francamente che lo Stoccard riesca a mettere quei soldi per un giocatore che ha avuto l'ultimo anno praticamente rotto boh va bene che il mondo è pieno di opinioni però mi sembrerebbe veramente un'operazione scettica cioè un'operazione un po' stupida. L'ultima notizia che vi do che è uscita poco fa è praticamente saldato il trasferimento di Gollini al Monza non ci tocca particolarmente perché credo che lo si piazzerà da qualche altra parte non so se è una questione di ingaggio una questione di situazioni fa specie anche perché poi il procuratore di Gollini con il Monza ha un buonissimo rapporto però il giocatore comunque non è integrato in squadra e quindi non credo ci siano minimamente possibilità di vederlo nella Rosa dell'anno prossimo anche perché con Musso che non sembra trovare una destinazione con carne secca è amovibile francamente non ce ne faremmo assolutamente nulla e insomma comprendo chi si lamenta forse siamo partiti a razzo e poi abbiamo rallentato in questo mercato è vero che tutto il mercato sta rallentando si attendono probabilmente dei movimenti dalle bighe e poi il classico effetto domino ad oggi la situazione è questa comunque la squadra c'è va puntellata ma c'è però è innegabile che su alcuni reparti in particolare sul reparto delle fasce forse ci si aspettava qualcosa di più non ci resta che attendere io come al solito vi ringrazio tutti i riferimenti in descrizione ci vediamo nel prossimo video ciao ciao grazie a tutti